Ciao Raffael che è rientrato in Italia dopo un'esperienza in Brasile, nel frattempo si continua a giocare, la manda di là, ha una mano Ciao Raffael, ancora Monza con Namir Gafur, difesa di Petkovic, va poi ad attaccare il serbo, chiude la traiettoria, il muro di Monza, primo punto per i ragazzi di soli. Grazie